E' ufficiale, il prossimo 18 settembre alle ore 8.30 la campanella che segna l'inizio dell'anno scolastico suonerà anche nel plesso di via Grigento della scuola media statale Capitano Vaccaro di Favara. Dopo il lungo intervento di adeguamento statico della struttura che ha costretto lo spostamento delle classi dell'istituto in diverse sedi della città di Favara, a breve nella scuola saranno completati tutti i lavori del primo lotto che consentiranno agli elevi che attualmente frequentano la succursale di via Capitano Callea di fare ritorno presso il plesso centrale della scuola. Un sopralluogo tecnico si è svolto ieri proprio all'interno dell'edificio scolastico dove il sindaco di Favara Domenico Russello, il suo vice Lillo Montaperto, l'assessore ai lavori pubblici Mimmo Alessi, insieme ai tecnici dell'ufficio tecnico comunale di Favara hanno incontrato i responsabili dell'impresa che sta conducendo i lavori per assicurarsi personalmente dello stato dell'arte delle opere stesse. Sindaco, riusciranno i ragazzi a sentire il sonno alla campanella in questa scuola il 18 settembre? Abbiamo sentito la ditta incaricata, il direttore dei lavori e il gruppo quali tutti conformemente ci hanno detto che assolutamente sì, possiamo preannunciare che per l'inizio del nuovo anno scolastico i ragazzi avranno riconsegnato questo bellissimo plesso che diventerà uno dei più belli, nuovi e a normativa del nostro comune. Voglio rassicurare tutti quanti che questa scadenza verrà rispettata anche perché la consegna dei lavori definitiva è prevista per il 10 di giugno, giorno più, giorno meno. Sicuramente entro giugno avremo la consegna definitiva dei lavori e una volta preso in carico il plesso lo consegneremo al preside Fiore perché possa, già lo sta facendo organizzare ovviamente, l'inizio del nuovo anno scolastico ma richiederà essendo un plesso nuovo anche un minimo di organizzazione per poterlo arredare di tutto punto ma credo che l'estate di mezzo ci aiuterà in questo senso e con la ripresa del nuovo anno scolastico finalmente faremo l'alza bandiera, l'apertura, l'inaugurazione, l'alza bandiera con l'inno di Mameli e i ragazzi potranno finalmente riappropriarsi di un plesso particolarmente importante per questo quartiere perché la chiusura ha determinato tanta difficoltà e tanti disagi. Ovviamente bisogna dare atto in merito a tutti quelli che pur tra mille difficoltà hanno lavorato per superarli e non sono stati pochi e ci sarà sicuramente al momento della consegna dei lavori l'occasione per poter fare il punto di tutto quello che è successo e ringraziare tutti quelli che si sono impegnati. Per ora quello che ci importa è poter dire ai nostri ragazzi, alle nostre famiglie, agli insegnanti, al preside che l'anno scolastico inizierà con il nuovo plesso che noi consegneremo in tempo utile. È stato un lavoro abbastanza impegnativo che ci ha impegnati non solo la direzione dei lavori, l'impresa, ma anche l'amministrazione e i dirigenti dell'amministrazione perché il lavoro più complesso che è stato fatto è stato quello di un consolidamento strutturale che tra l'altro è stato anche più difficoltoso del previsto in quanto una volta scoperta la fondazione con gli scavi si è potuto appurare come i problemi di natura strutturale che c'erano erano più gravi di quelli preventivati per cui c'è stato anche uno sforzo economico da parte del comune però diciamo con questa visita oggi ci siamo resi conto che praticamente è tutto ultimato una scuola abbastanza luminosa, ampi locali, bei colori e quindi restituiamo al quartiere questo complesso edilizio scolastico che diciamo è veramente importante in una zona che ne ha proprio bisogno. Stiamo facendo sì appunto che a settembre possa essere operativa per dare questi servizi ai nostri ragazzi devo dire che confido in quello che è il buon senso, la buona educazione perché è facile di dare il dito all'amministrazione però la vera amministrazione siamo noi cittadini quindi un caloroso invito a tutti noi a essere custodi di queste strutture perché con grossi sacrifici le amministrazioni e l'amministrazione comunale attuale stiamo operando per far sì per dare veramente un sito che dia dignità ai nostri ragazzi quindi è competenza nostra tenerla e mantenerla custodita quindi dico con il sentimento che un padre di famiglia, un operatore sociale, un amministratore oggi può dire realmente ai nostri concittadini tuteliamola e custodiamola per mantenere questa dignità dei nostri figli. Al giro espettivo dell'istituto erano presenti anche il preside della scuola media Capitano Vaccaro Carmelo Fiore ed alcuni insegnanti. Nonostante la bella notizia dell'imminente consegna della scuola il dirigente scolastico Fiore teme che con la conclusione dei lavori e con l'allontanamento degli operai dal plesso scolastico quest'ultimo resti incustodito e che quindi possa essere vittima di episodi di vandalismo. Ci sono delle certezze sulla riapertura del 18 settembre di questo plesso ma quali sono le vostre richieste attuali all'amministrazione? Innanzitutto di transennare la zona che non è stata ristrutturata e quindi eliminare i pericoli e coprire qualche finestra con un'inverriata qua all'interno della scuola perché qualche alunno potrebbe buttarsi giù o spingere qualche cosa e far male agli altri. Non mi è piaciuto la parete tutta bianca, avrei preferito come nelle scuole l'abbanconata per... si vede meno lo sporco perché prima alunno che ci poggia una mano e anche involontariamente, non dico volontariamente, bene, dopo una settimana ci vorrà sicuramente la tinteggiatura. Mi auguro che l'amministrazione comunale, oltre a consegnarmi il locale, consegni anche l'arredo per questo locale così i ragazzi venderebbero una scuola nuova con tutto nuovo. Io ho chiesto da tanto tempo, sia per la struttura che attualmente dirigo, che per questa di mettere un impianto di videosorveglianza in maniera tale che già la semplice vista di una telecamera già trattiene perché a me fa piacere che i ragazzi soffriiscano degli spazi della scuola però se dopo aver giocato cominciano ad arrambicarsi, ad entrare, a fare danni gratis e tamore dei senza nessuno utile per loro, se non quello di danneggiare e basta. Dare fuoco a un registro, dare fuoco ai banchi o distruggere i vetri è sicuramente un grosso danno. Ora, con la modica spesa di una telecamera, di una videosorveglianza, sicuramente sarebbe un investimento per il comune e risparmierebbe in vetri, in verriate, tendeggiatura e quant'altro. Per il resto, dopo tanti anni di richieste da parte di chi mi ha preceduto in questa scuola, finalmente io posso raccogliere questa consegna e a settembre faremo sicuramente l'inaugurazione della consegna ufficiale con il sindaco, l'assessore, eccetera, quindi con anche una cerimonia. Comunque si spera che i timori del preside vengano smenditi dal comportamento dei cittadini favaresi che devono accogliere con gioia il ritorno nel loro quartiere di quell'istituzione che per i propri figli non significa solo luogo di istruzione ma che rappresenta anche una vera e propria palestra di vita.